Quanta acqua è venuta? Quanta acqua è venuta ragazzi? Si riparte? Si riparte? Avanti, avanti e cambiamo posto ragazzi. Colazione? E vai, guarda dove siamo? Ora fatti due piante si entra dentro. Io lo vivo con i normali, non c'è nessuno. E lei? E lei? Non c'era ragazzi. Facciamo il tempo? Si? C'è giusto due fungaroni. Buongiorno, avanti, avanti. Eh, io te glielo spiego. Avanti, avanti. Sono fuori in zona, oggi sono trasferta. E' un po' che sei trasferta. Mamma mia, ho fatto più chilometri della porca. Eccolo lì, il fungaiolo dell'opono. Non c'è la foglia alla mela? Non c'è la foglia alla mela? Un sitlofum. Io ve lo dico. Avanti, avanti, fenomeno. Fa un bel lavoro, eh? Fa un bel lavoro, mi raccomando. Telefona. Si salta un ventino alla Roma che sa. No. E mi è piantata in mare le mani i giorni. Ciao. Siamo ragazzi, ci siamo. Avete visto quante persone c'erano al bar stamani mattina? E la zona dove è nato qualche fungo è questa. E quindi bisogna, in qualche modo, dividere lo spazio con tante persone. E speriamo, dai. Io sono abbastanza fiducioso, anche se non sarà facile. Già, già non vedere nessuno in un'ampia area così non è male. Per cui vediamo se c'era anche fungo. Si è trovato il lupo. O meglio, si è trovato Silvano, detto il lupo. E va, avanti, avanti, avanti. È dura oggi, è dura. Siamo venuti un po' dove sono venuti tutti. Ieri 300 macchine. Hanno fatto le contravenzioni, mi hanno detto. Però, se il bondi si vede dal mattino, se il bondi si vede dal mattino, avevano ragione a venire. Ma guardate. Ma guardate. È difficile. Guardate. Qui c'è uno piccolino da lasciare. Vedete? Quello piccolino. Guardate dove si nascondono. Ma guardate dove si nascondono. Perché effettivamente non è facile vederli. Guardate. Guardate questo fungo qua. Ma guardate questo fungo qua. Era veramente, veramente difficile. Vede, vederlo. Guardate qua. Che gamberellone è. Guardate. Tre. Poi c'è un altro qui. Si è. Si è. Si è cominciato a trovarli però. Si è cominciato a trovarli. Via, 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 via. Sentite, sentite la gente che c'è. C'è veramente tanta gente. È una cosa incredibile. Qualche fungo c'è. Qualche bel fungo c'è. Però purtroppo è già pieno anche di tante persone. Avanti, avanti. Sono difficili. Vedete? Funghi belli, 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 belli. Guardate qua. Guardate i funghi ci sono qui. Se c'è gente. Due, tre, quattro. Funghi sotto, cinque, sei, sette, otto, trasso, nove, dieci. Ora si comincia a farlo di serio. Ora si comincia a farlo di serio davvero. Guardate qua. Come si mettono tutti insieme. Guardate qua. Uno. Guardate che piccia è questa. Guardate qua. C'è gente. Mannaggia. Bello. Bello. Bello, bello, bello. Questo. Idem. Idem. Questo. Guardate anche questo qui com'è. Guardate che bellezza. Mamma mia. Sotto c'è un altro piccolino. Guardate da lasciare. Quattro puoi. Guardate qui. Venite qui. Uno piccolino. Guardate questo. Due. Due. Ci vicino a un altro colore. L'altro. E un altro colore di qua. Guardate qui. Nove, dieci funghi. Sentite la gente. Siamo circondati. Avanti, avanti. Ragazzi, accanto ai funghi cosa c'era? Una sartarochina. Vedete mettere il capino fuori. Dai, dai. Lascio fare, lascio fare. C'è gente. C'è gente. Se ci sono fuori funghi o sì. Non vuoi cercare. Di che si inventano i carciatori. Guardate che si inventano i carciatori. È tutto pulito. Chicchi di gran turco. E guardate che cosa c'è legato qui a questa sughera. C'è un fusto con un temporizzatore che la notte probabilmente gira e è data a mangiare ai cinghiali. Guarda, è bella sughera. Avanti, avanti, avanti. Vedete? Il bosco è fitto. Guardate come è bellino lì. Guardate anche questo. I funghi sono strepitosi, strepitosi. C'è sempre tanta gente però. Guardate qua. Guardate i funghi. I funghi sono, mamma mia. Traordinari. Avanti, avanti, avanti. Vedete? I funghi si trovano spesso in queste rature. Bisogna cercare un po' di luce perché le pioggi sono state tante. Il sole è mancato e quindi forse un luogo dove possono nascere, vediamo questo, è uno spazio un po' più aperto. E vedete come sono, sono funghi che nascono ora. Quindi secondo me questo posto fra una settimana continuerà a regalare grandi soddisfazioni. Anzi, ancora più grandi di oggi perché si richiude perché effettivamente oggi ci sono molte persone e i funghi piccoli. Avanti, avanti. Guardate la bellezza. Mamma mia, mamma mia. Vedete? Funghi. Bene. E qui sotto ce ne sono altri, altri sri. Oh ragazzi, eccoci qua. Allora, guardate. Si trovano sempre, non mai da soli. Uno, guardate qui ce n'è, qui ce n'è uno vecchio. Lo vecchio, ho mangiato, mangiato dalle lumachina, dalla lumachina. Questo qui che bellino. E ora vi faccio vedere il più bello che è qui sopra. Mi fa male il ginocchio. Eccolo lì. 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 E questo era più vecchietto. Il primo fungo vecchio che si trova. Il primo fungo vecchietto. Quest'altro invece sono tutti bianchini sotto per i vini. Eccolo lì. Eccolo lì. Eccolo lì. Eccolo lì. Avanti, avanti, avanti. Ma tutto tutto bagnato. Guardate. Le mare in mani. Sono grosse. Sono belle. Per il fuoco bellino. Mi guardavo. Ho detto è meglio allontanarsi. Perché non si sa mai. E guardate cosa c'è qui. Guardate nella mucchina che cosa c'è qui. Vedete? Vedete nulla? Vedete nulla? Eh? Ma chi la ci ha portato bene? Eh? Ma chi la ci ha portato bene? Avanti, avanti, avanti. Ragazzi, ragazzi, qui ce ne sono due veramente interessanti. Un barcelottolino, sì, guardate. Uno. E uno, lì. Bellini. Come? Guardate qua. Che bellezza. Mamma mia, i funghi. Anzi, questo. Belli, belli. Oh, belli, belli, belli. Avanti, avanti, avanti. Ci sono piccolini di nascita da lasciare. Speriamo che ne trovi alcun altro petto. Vai, avanti, avanti. Questo. Questo già un po' più. È un po' più bellino. Si lascia da via. Avanti, avanti, avanti. Questo è tutto mangiato. Si può anche levare. Proprio tutto è tutto mangiato. Questo è più bellino. Questo è più bellino. E poi c'è un altro petto che ve lo voglio far vedere per farvi capire le nascite. Guardate che piccolino è qui. Quindi qui siamo in piena nascita. Se il tempo tiene, qui fra qualche giorno c'è da divertirsi. Avanti, avanti. Ma questo. E si può prendere. Quei due lì. Vedete? Sono piccolini. Uno e due. E si lasciano. Un altro addirittura di sopra. Guardate. Un altro colore sotto. Vedete? Sono proprio minuscoli. Qui nascono ora funghi tre. Però venite con me. Perché qui ci sono un paio di funghi veramente, veramente interessanti. Oh, guardate. Ho trovato una perciolina. Se la ce ne aveva... La ce ne aveva due veramente, veramente interessanti. Il primo, eccolo qua. Il primo, eccolo qua. Lo vedete? Lo faccio vedere. Lo faccio vedere. Ecco qua. Giro. Così si vuole. Gusta meglio. Questo è... Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Mamma mia. Che tombolotto. Guardiamoci, è bello qui di accanto. Guardiamoci, è quello qui accanto. Mamma mia. Mamma mia. Che funghi. Che funghi. Aspettate. Aspettate, aspettate. Aspettate. Guardate, qui c'è un altro. C'era questa perciolina, ma l'ha mai ispirato. Guardate anche questo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tre. Ce n'è un altro colori. Si può lasciare un altro. E' un altro lì. Guardate i funghi belli. Guardate i funghi belli. Guardate, sono piccolini. Questo è tutto mangiato. Ti può lasciare o prendere uguali. Avanti, avanti. Qui ce ne sono levati, diciamo, cinque. Uno piccolino lì di nascita si lascia. Ma guardate questo qui. Faccio vedere. Come è difficile vedere. Vedete? Ha il colore, ha il colore delle foglie. Ed è un segno di fungo. Guardate qua. Guardate voi il fungo. È questo. Un tambrellone. Guarda qua. Bellissimo, però non si vedono. Non si vedono. Avanti, avanti, avanti. Questo qui. Guardate voi questo. Mamma mia. Mamma mia. Ci sono funghi veramente straordinari di nascita. Vedete? Qui, secondo me, è proprio fra una settimana. Avanti, avanti, avanti. Non me lo vuole ballare. Matto, 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 matto. Vi faccio vedere. Qui c'è uno piccolino di nascita da lasciare. Di sotto se ne è visto un altro, si va a coglierlo. Ma guardate che cartolina è questa. Guardate se questa non è una cartolina. Quattro funghi. Uno più bello su un altro. Piccolini, piccolini, piccolini. Un altro lì di sopra. Come si fa? E come si fa? Sarebbe da lasciarli tutti. Però è dura, è dura, è dura. Sono a misura, eh. Dopo ve lo mostro. Allora, allora, guardate. Uno, due. Questo e quello si lasciano. E questo, tre. Un tombolino. Allora, tre e due, cinque. E uno lì, sei. Guardate. Uno lì, sei. E due. Qui ci si risolva. Avanti, avanti, avanti. Eccolo, eccolo, eccolo. Oh, no, no. Fugli. Di nascita. È dura, è dura. Avanzali, si cominciano a trovare. Perché, come avete visto, è un susseguirsi. Questo c'è il gambo un po' mangiucchiamo. Guardate, guardate. Guardate, fugi. Avanti, avanti, avanti. Matto. La misura è questa oggi. La misura è questa, guardate. Fugli. Ce ne fossero, ragazzi. Era qualche uscita che si faceva a vuoto. Capita. Poi ve le mostrerò tutte le uscite a vuoto, ragazzi. Madonna, c'è bene anche lì dietro. Madonna, c'è bene anche lì dietro. Se non l'avevo visto, è in diretta. Questo l'avete visto con me. Questo l'avete visto con me. Questo è più bello. Questo è più bello. Ce ne sarà più? Avanti, avanti, avanti. Due. Non si fa ancora un po'. Vedi, qui c'è un altro. Questo sembrerebbe il cappello. Vedete, ventena, ventenne. È stato tutto mangiato. Guardate, le lumache come lo vanno. Il cappello è bello. Gambo da lasciare. Però il cappello è tanta roba. Avanti, avanti. Vedete un'altra fungare. Guardate. Ce n'è uno qui. Molto bellino. Molto. Ma guardate. Cos'è il gambo? Guardate il gambo è questo. Due piccolino. Tre piccolino. Quattro, questo qui. Questo qui. Un altro campenello. Questi due si lasciano. Questi due si lasciano. Due. Guardate, in due è un altro piccolino da lasciare. Mamma mia, mi ci sono. Lì siamo presto. Due o tre giorni forse. Guardate come sono qui. Questi due sono già belli. Sì. Quindi sono un vasto. Guardate. Questo. Non male. Un gamberillone. Ma venite a vedere come c'è. Bellino qui. Qui c'è un altro. Veramente degno di nota. Degno di nota. Aspetta, si passa qua. Eccolo lì. Eccolo lì. Guardate i funghi. Sei i funghi. Alcuni piccolini. Puff. Bello. Avanti, avanti, avanti. Ho avuto tempo di pulirli. Guardate, guardate il fungo c'è qui. Ma guardate voi. Finalmente il primo vero bel fungo della giornata. Mamma mia. Ho ho. Ho ho. Ho ho. Questo sì. Questo sì che fa la differenza. E lì ce ne sono due piccolini. Guardate qua. Guardate qua. Avanti, avanti, avanti. Eccolo, eccolo ragazzi. Guardate qua. Eccolo. Eccolo. E ora ce n'è una piccia. Più avanti. E... Venite con me perché ci sono. Guardate come è bellino lì. Guardate. Qui ce ne sono altri due. Guardate. Guardate, mi sono questi due qui. Guardate, mi sono questi due qui. Guardate. Uno. E quest'altro un po' più bellino. Due. Avanti, avanti, avanti. Si fa un tempo. Guardate. Guardate qua. Guardate qua. Questi sono. Questi sono. Signori funghi. Qui c'è una piccia di tre. Guardate qua. Questi sono da lasciare. Mi scasciano. Avanti, avanti, avanti. Ce ne sono due. Vi faccio vedere la difficoltà adesso. Guardate sotto questa scopa. Che mega fungo c'è qui. Ma guardate qua. Ma guardate il fungo. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Ma venite con me se ce la può passare. Se ce la può passare qui. Se ce la può passare qui. Voglio dimostrare. Guardate voi. Venite con me. Venite con me. Qui ci sono. Su questo. Solo super funghi. Solo su quel funghi ragazzi. Mamma mia. Mamma mia. Sarebbe quasi da lasciare. Però no. Ma da per lì. Come si fa? Come si fa? Avanti, avanti, avanti. Matti. Sono tutti da pulire. e qui ci sono la forza, la forza dei funghi. Guardate. Hanno alzato questo sasso. Guardate sotto i tre funghi ci sono. Ma guardate i tre funghi ci sono. Hanno alzato proprio il... e il sasso. Mamma mia. Mamma mia che funghi. Guardate qua. A lasciare. Come si fa? A lasciare la bottiglia via. La bottiglia. La bottiglia la ci ha portato bene però. Vedete? Se voi li raccogliete. Se voi li raccogliete poi dopo. Trovate questi funghi. Guardate qua come l'è questo. Ma guardate che fungole è questo. Guardate qua che fungole è questo. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Se al giro c'è questi funghi ora c'è da morire. Avanti, avanti, avanti. Ecco qui. Vedete il livello che è qui accanto subito. Mamma mia, i funghi. Qui dietro ce n'è un altro. Guardate qua. Guardate qua. Avanti questo. Pagalline bocciolotti ragazzi. Avanti, avanti, avanti. L'ho lasciato dal sole ragazzi. Guardate qua. Guardate la bellezza. Uno, sentite che urla delle persone. Due e tre. E questo è mangiato. Si regge l'anima odente. Il cappello è bellino. Questo è un signor funghetto. Questo è un signor funghetto. E questo invece è proprio... Questo è proprio gradevole. Questo è proprio... Apriamo lì qui sopra. Questo è proprio gradevole. Guardate qua. Guardate qua. Avanti, 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 matto. E' pausa. Siamo rimasti un po' al palo. E' girato. E si sta tornando un po' sui nostri passi. Vedete? E si ritrova il funghetto. Guardate come sono quei due lì. E un altro di sopra. Aspetta eh. Ora ve li faccio vedere. Andiamo a cogliere il pesto. E vi lascio per ultimo. Questo qui. Che tombolino. Madonna. C'è un altro sotto. Vedete? Da lasciarsi. Sento urlare ma giù. Ci sta la gente vicino vicino. Però finché si trovano funghetti. Vedete? Di nascita. Veglini. Sotto a una vecchia percia. Non vi allargo. Sentite la gente. Qua giù c'erò. Ci ho messo i bastoni. Ce n'è un altro bello. Venite un. Da questo. Poi ci sono qui altri due. Guardate. Sempre di nascita. Vedete? Uno e due. Ma è più bellino. Venite con me. Venite con me. Venite con me. Ci ho messo i bastoni. Vedete? Guardate lì dove sono. i bastoni. Vedete? Questo è bello eh. Questo già fa la differenza. Questo già fa la differenza. Ora ve lo faccio vedere. Se me lo dà. Se me lo dà. questo è Monsignor Funghi. E vai avanti avanti. Guardate voi. Uno, due piccolissimi. Guardate che sono piccolini. Tre, quattro. E qui li li ha lasciati. Uno qui è stato. O qui è stato dall'animale. Questi erano mangiati. Guardate. Mangiati dalla lumaca. Altri due. Però venite a vedere che funghi c'è qua. Venite con me. Venite con me. Venite, venite, venite. Allora, sono tutti funghi neri. che li abbiamo trovati fino adesso. Poiché funghi neri vesti voi. Guardate i funghi ci sono qua. Guardate. Guardate i funghi ci sono qua. Guardate qua. Poi c'è un altro lì piccolino. Un altro lì piccolino. Vedete come? I funghi ancora continuano a nascere. Eh, questi sono non chiari. Vedete dentro ha una ceppa ha una ceppa di guardate questi due e quest'altro. Quattro bianchi in mezzo ai funghi neri. Eccolo. Ecco, guardate guardate i fungacci ci sono qui. Vedete due fungacci però qui c'è uno bellino. E poi e poi come tu fai a sapere se ci sono qua dentro a questo legname? Qui c'è un altro piccolino da lasciare. Vedete? La vanta ma lì ma i funghi sono così ragazzi. Sono piccoli di nascita. Guardate come ci sono qui sotto. Uno due due e tre queste si lasceranno. In fiombe in fiombe guardate 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 questo è sicuramente da prendere un bel bocciolotto quattro guardate ci sono qui guardate 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 c'è gente di sopra guardate guardate questo qui c'è uno sotto ma guardate bisogna bucarsi le mani per prenderlo guardate il fungo dentro bello dentro il fungisolo vai qui ma guardate che ho ma bello ma bello ti facen within un altro piada guardate ora se non si comincia se non si comincia a ria avvicinarsi alla macchina si fa il proprio sarti avanti 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 se non si finisce più oggi oggi non si finisce più di cogliere funghi bello qui guardate piccolino di nascita qui c'è un campo si va via si va via però e si continua a trovare funghi mamma mia come si fa ad andare via con i funghi in questo modo mamma mia avanti 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 matto ci siamo siamo tutti anche oggi giornata incredibile giornata veramente incredibile che vi dico sembrava sembrava che la si mettesse male all'inizio ve lo dico davvero perché c'erano tante macchine tanta gente poi ci siamo un po diciamo allontanati e man mano sono hanno iniziato a venire fuori guardate adesso faccio vedere e allora i funghi sono tanti perché per questo momento già sono 5 6 giorni vengono in questo bosco a raccogliere funghi quindi è passato un po di tempo però sono ancora di nascita guardate i funghi sono 150 151 152 guardate bellezza guardate fa che bellezza veramente tanta 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 roba perché veramente inatteso anche inatteso continueranno secondo me secondo me continueranno perché questi bocciolini sapeanti ce n'è sotto non si sono visti quindi che vi dico avanti 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 mai mollare mai 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 canale youtube porcini che passione e vai grazie